Prima giornata di saldi in Abruzzo con centri commerciali presi da salto e parcheggi pieni. Un'occasione che le famiglie non vogliono lasciarsi scappare, anche se, dati alla mano, l'importo medio a famiglia si aggira sui 340 euro. CNA Abruzzo invita i comuni ad incentivare la stagione degli sconti con strisce blu gratis e carte fedeltà. L'avvio della stagione dei saldi sostiene CNA, consente un rilancio salutare del settore commerciale e una boccata d'ossigeno per i consumi delle famiglie, ma deve essere aiutata da uno sforzo di fantasia e un salto di qualità da parte degli enti locali che devono abbinare pacchetti significativi di offerte alla stagione degli sconti. La prima giornata si è ormai conclusa e in tanti hanno cercato l'occasione. Le indomande sono un ottimo prezzo, devo dire. Molto bene. Speriamo si continua così. Si trovano tante occasioni e comunque con i tempi che corrono conviene comprare. Poi ci vedo che c'è tanta gente, quindi dovrebbe andare bene. Ho già comprato due paie di scarpe, ora molto probabilmente comprerò un maglione. Si, sto trovando abbastanza, sì. Io torno a casa questa sera, sono arrivato qui alle 9 mattina e me ne vado quando chiude. Almeno oggi è concesso. Molta gente, difficoltà col parcheggio, però ce la faremo.